Cara Vivi, ogni storia ha tre punti di vista. Tata! La mamma ha detto che posso entrare in casa solamente quando mi chiama. Torno subito, Carlo. Il tuo? Allora? Hai mai visto un cadavere? Il mio. Mi chiamo Peter Kleppman e ho quasi ucciso mia moglie. E poi c'è la verità. Se sei quello che sei oggi è solo grazie a me. Cerchi qualcosa? Sì. Un assassino. Niente segreti. I segreti distruggono tutto. Prima visione assoluta. Il lato oscuro della mia famiglia. Questa sera, domani e giovedì, 21 e 20. Rai 2.